questa sera vi ripropongo dei modelli che ho rifatto quest'anno di orecchini a monachella la forma di cupcake ho fatto in versione rosa con le granelle in tono su tono versione gialla sempre con le granelline tono su tono monachella durata in questo caso azzurra con la fragolina sopra e granella ed infine versione bianca quindi con la panna realizzata in fimo effect perlato vedersi e poi successivamente lucidato con resina UV con una fragolina e monachella durata